Ma senti un po', ma noi ci andavamo in diretta oppure andavamo in microfono? Ah, in diretta, in diretta c'ho il pre-filo. Su quella parte all'iniziale, di Bui Omega, hai visto quando c'è il synth? Pappo, pappo con le ottave, eh? E dai un po' più di forza, stai a pensare. Tipo così, oppure con tapping, che fanno suono più dalla stiera. E dai un po' più di un po' più.